Dal 27 giugno al 13 settembre, con il servizio privato per la riviera adriatica di Bonomi Autonoleggi, ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della riviera romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. Protezione civile di Pianca Muno, unità cinofile da nonato del garde da berzo inferiore, carabinieri, vigili del fuoco che hanno allestito l'unità di comando locale a Pianca Muno e la sala operativa presso l'ex asilo. Sono tante le persone in campo per cercare Gloria Maffolini, 59enne di Pianca Muno, che manca da casa, vive con il fratello e nella stessa palazzina gli altri familiari da giovedì mattina. Le unità cinofile e i cani molecolari di Lonato avrebbero segnalato tracce nei pressi della diamalteria italiana, nei pressi del fiume Olio. Sì, la signora manca proprio da giovedì. Gli avvistamenti che prima sembravano un po' dubbi sembrano certi, nel senso che i cani sono andati sulla traccia della signora, ci hanno portato verso Darfo. Hanno chiamato proprio ora i carabinieri che nella zona della diamanteria c'è un segnale forte. Adesso abbiamo concentrato la nostra protezione civile alla ricerca proprio in quella zona. Si è alzato in bollo, mi sembra, dalla malpensa in questo momento anche l'elicottero dei vigili del fuoco per setacciare la zona dell'Oglio nel tratto tra Darfo, il Cappellino e Evoario. Nell'Oglio i vigili del fuoco hanno fatto scendere anche un gommone. Le tracce della signora si perderebbero nella serata di giovedì quando qualcuno l'avrebbe vista per l'ultima volta prima del temporale fra la rotonda di Gianico e quella del Cappellino di Darfo. La signora Gloria era solita uscire di casa e starsene in giro per ore anche per giornate intere. Di solito però portava con sé la borsa. Giovedì mattina però è uscita senza documenti e senza borsa. Calzava delle ciabatte, una tuta da ginnastica con i pantaloni scuri e la felpa grigia. Il fatto che fosse solita allontanarsi da casa non ha fatto temere per la sua sorte i familiari finché non l'hanno vista davvero non rientrare in tarda serata. La signora, questo ha fatto sì che i parenti hanno segnalato con ritardo la mancanza della signora perché era frequente con queste sue uscite da casa dove mancava magari per una giornata intera. Questa volta però è andata oltre. La protezione civile già da ieri che è stata allertata ha setacciato tutta la zona della pista ciclabile, della riva Leriana e le nostre mulattiere che vanno verso Montecampione. e aspettavamo proprio giusto la presenza di questi cani per portarci sulla traccia.